Aumentano dell'11% i casi in Europa, unica zona al mondo in cui si sta registrando una nuova impennata di Covid. Situazioni critiche in diversi paesi, Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia, Germania, preoccupazioni crescenti nel nord Italia, i Paesi Bassi pensano alla chiusura delle scuole. Particolarmente grave è la situazione in Repubblica Ceca, dove i vaccinati sono soltanto il 58%, 26.000 i casi nelle ultime 24 ore. Spiega un medico di terapia intensiva, la settimana scorsa su 10 ricoverati uno era vaccinato, ora nessuno è vaccinato, quindi questi numeri mostrano certamente l'impatto che la vaccinazione ha sul destino dei pazienti. Con una crisi di governo in atto, la Repubblica Ceca ha comunque introdotto da lunedì alcune restrizioni che riguardano i non vaccinati, che non potranno più presentare un tampone negativo per prendere parte d'eventi pubblici. La Germania ha ad un passo da superare la triste cifra delle 100.000 vittime da Covid, 66.884 i casi registrati nella giornata odierna. Interviene ancora duramente il ministro tedesco della Salute Jens Spahn, vorrei trascinare i non vaccinati in un'unità di terapia intensiva per far loro capire. Su Twitter scrive la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Vogliamo convincere le persone a vaccinarsi, i richiami saranno presto disponibili e manteniamo le distanze e le mascherine. L'OMS giorno dopo giorno continua a lanciare l'allarme. Siamo molto allarmati, abbiamo appena passato, appena superato, tristemente la settimana scorsa, la soglia di un milione e mezzo di morti. Se continuiamo così sulla rotta attuale, prevediamo mezzo milione di vittime, 500.000 morti in più entro la primavera del prossimo anno. Tornano le restrizioni nella provincia autonoma di Bolzano, così vicina al confine con l'Austria, colpita da una nuova ondata di virus. Chiusura di bar e ristoranti alle 18, coprifuoco notturno dalle 8 di sera alle 5 del mattino e obbligo di mascherine all'aperto.